le avventure di pinocchio di carlo collodi letto da libri in pillole capitolo 16 la bella bambina dai capelli turchini far accogliere il burattino lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto in quel mentre che il povero pinocchio impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande pareva ormai più morto che vivo la bella bambina dai capelli turchini s'affacciò da capo alla finestra e impietositasi alla vista di quell'infelice che sospeso per il collo ballava il trescone alle ventate di tramontana batte per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi a questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra che cosa comandate mia graziosa fata disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata che da più di mille anni abitava nelle vicinanze di quel bosco vedi tu quel burattino attaccato penzolone a un ramo della quercia grande lo vedo or bene vola subito laggiù rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piede la quercia il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo quel che mi avete comandato è fatto e come l'hai trovato vivo o morto a vederlo pareva morto ma non deve essere ancora morto per bene perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola ha lasciato andare un sospiro malbettando a mezza voce ora mi sento meglio allora la fata battendo le mani insieme fece due piccoli colpi e apparve un magnifico cam barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro tale e quale come se fosse un uomo il cam barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d'oro una parrucca bionda coi riccioli che gli scendevano giù per il collo una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona un paio di calzoncorti di velluto cremisi le calze di seta gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere su da bravo medoro disse la fata al cam barbone fa subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco arrivato che sarai sotto la quercia grande troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto raccoglilo con garbo posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui hai capito il cam barbone per far intendere che aveva capito di meno tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi la carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il cam barbone seduto a cassetta schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata che stava aspettando sull'uscio di casa prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madre perla mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato e i medici arrivarono subito uno dopo l'altro arrivò cioè un corvo una civetta e un grillo parlante vorrei sapere da lor signori disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di pinocchio vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia vivo o morto a questo invito il corvo facendosi avanti per primo tastò il pulso a pinocchio poi gli tastò il naso poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole a mio credere il burattino è bello e morto ma se per disgrazia non fosse morto allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo mi dispiace disse la civetta di dover contraddire il corvo mio illustre amico e collega per me invece il burattino è sempre vivo ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto davvero e lei non dice nulla domandò la fata al grillo parlante io dico che il medico prudente quando non sa quel che dice la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto del resto quel burattino lì non m'è fisionomia nuova io lo conosco da un pezzo pinocchio che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto quel burattino lì seguitò a dire il grillo parlante è una birba matricolata pinocchio aprì gli occhi e richiuse subito è un monellaccio uno svogliato un vagabondo pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli quel burattino lì è un figliuolo disubbidiente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo a questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e singhiozzi figuratevi come rimasero tutti allorché sollevati un poco i lenzuoli si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era pinocchio quando il morto piange è segno che è in via di guarigione disse solennemente il corvo mi duole di contraddire il mio illustro amico e collega soggiunse la civetta ma per me quando il morto piange è segno che gli dispiace a morire